questi sono i capelli che ti vengono quando hai visto l'esorcista il credente vengono questi capelli qua, così c'hai i lunghi, così diventano ah comunque caro David Gordon Green, regista di Esorcista il credente William Fetkin, regista dell'esorcista del 73, disse mentre stavate producendo il vostro filmettino che avrebbe perseguitato, se esistesse veramente un al di là eccetera il regista di questo film, se non fosse venuto un bel film credo che se cominci a vedere porte, chiudi che si apre, sai il motivo ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video sigla oh eccoci qua, eccoci qua, benissimo, purtroppo sono in ritardissimo con tutti questi video in merito ai film che escono al cinema perché questo esorcista il credente è uscito già da qualche giorno cerco di recuperarmi quello che mi interessa spero di riuscire a parlarvi di tutto quello che voglio parlare nel frattempo beccatevi questa recensione in sala la dell'esorcista il credente allora prima di cominciare con questo video vi ricordo che qui sotto trovate tutti i link agli miei canali, alle mie pagine, per seguirmi ovunque è importantissimo mettere like al video e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto recensione in sala è una recensione di un film che ho da poco visto al cinema e quindi insomma è abbastanza fresca come recensione poi come sappiamo i film possono essere visti, vanno visti più volte e magari la nostra opinione può variare, però nel frattempo questo è quello che penso poco dopo aver visto il film al cinema quindi cominciamo con questa recensione in sala allora come avete potuto immaginare sono abbastanza infervorato per questo esorcista il credente ma facciamo una piccola premessa esorcista il credente è il classico film alla David Gordon Green che adesso sta diventando famoso questo regista perché? perché lui ha una pretenziosità incredibile ed è anche per questo che il film sta sul cazzo perché già l'aveva fatto con Halloween lui cosa ha fatto? ha preso il primo capolavoro assoluto di John Carpenter e ha detto tutti i film dopo non contano più un cazzo perché per me sono timerdosi non lo so se l'ha detto questo però non contano più niente questi film e io ci faccio la mia tecnologia sequel quindi la tecnologia sequel diretta del primo film con questi suoi film di merda che sembrano serie tv del cazzo con tutti gli effetti speciali con tutto patinato, tutto orrendo quindi la cosa figa secondo me lasciando qualche inquadratura e poi là che si può salvare è come ha fatto Michael che su me è clamoroso veramente bellissimo per il resto tutta roba da buttare da buttare non ho ancora visto Hans però gli altri due mi sono sembrati veramente poca roba e ripeto mi sarò ancora più sul cazzo per la pretenziosità delle azioni roba fatta solo per marketing solo per soldi tanto per e non per dare qualcosa in più alla saga e in più si pretende anche di cancellare tutto quello che è stato fatto dopo come se fossero spazzatura cosa che non è per niente così peraltro di Halloween abbiamo parlato in maniera abbastanza specifica con Davide Fire e Dottie Store magari vi lascio il suo link in descrizione se volete andare a vedere la live la prima live sui film di Apple ma torniamo al nostro argomento principale non ci andiamo a mischiare i discorsi in troppo lunghi l'esorcista, il credente ha la stessa valenza di Halloween del 2018 ovvero quello di cancellare tutti i sequel fatti dell'esorcista e diciamo proiettarsi esattamente diciamo dopo, subito dopo il primo capolavoro assoluto del 1973 posso non piacervi questo tipo di film io non lo so è l'esorcista di Fletkin è un film che ha cambiato il modo di fare un certo tipo di cinema horror è un film che se siete amanti dovete assolutamente vedere e cercare di apprezzare per quello che è il film un film di 40 anni fa che peraltro è tornato anche al cinema in versione mi sembra estesa e quindi comunque è un film che ha una certa età ma secondo me continua ad essere qualcosa di incredibile ha proprio quell'aura di film capolavoro secondo me a livello di horror poi magari su qualche cinitta un po' gli effetti speciali perdono rispetto a quello che fanno adesso ma centomila volte gli effetti speciali pratici e magari un po' goffio ogni tanto di questi film vecchi che questa roba patinata inutile che fanno adesso questa recensione sarà molto incazzatosa perché questo film mi sta sul cazzo ovviamente e magari potrebbe anche non essere uno dei film più brutti di questo tipo il problema è proprio quello di volersi comparare con un film non è comparare nel senso di no facciamo un film migliore però questo non lo so spero che nessuno l'abbia detto ma è proprio il fatto di voler essere un film dell'esorcista voler essere un sequel voler utilizzare il titolo per parlare di qualcosa che se lo chiamavi in un altro modo andava uguale nel senso non serve a un cazzo questo titolo serve solamente per buttare qui in mezzo personaggi che non hanno neanche senso più di tanto che ci siano ma adesso andiamo a vedere nel dettaglio allora di cosa parla questo esorcista il credente questa trama incredibile il film inizia ad Haiti dove il nostro protagonista con la moglie la incinta tutti i carini stanno facendo una vacanza succede che c'è un terremoto e a caso di questa disgrazia la nostra protagonista dopo aver ricevuto una benedizione eccetera così finirà sotto le macerie dell'edificio il nostro cercherà di salvarla così e così la nostra donna morirà troverà salvata la bambina che portava in grembo e il film poi si catapulta qualche anno dopo quando la nostra è cresciuta e ha un buon rapporto colpare tutti i carini più uccolosi bene così succede però che con una sua amichetta una bella giornata decidono di andare nel bosco da sole però di giorno quindi neanche troppo esagerata come cosa perché? perché hanno scoperto ogni volta che la bambina amica ha fatto scoprire questa cosa che attraverso un particolare modo si può parlare con i defunti e essendo che la figlia del nostro protagonista voleva tanto riparlare con la madre risentirla eccetera decide di accettare a fare questa cosa ovviamente a un certo punto scompaiono scompaiono pure per tre giorni pure abbastanza tempo e nel frattempo questi qui dicono eh cerchiamo e qua andiamo dalla polizia di sud e giù dicendo adesso allora c'è da dire che questa prima parte è una parte abbastanza noiosa facciamo sempre finisce il primo tempo a parte qualche scenetta qui lì alla classica horror di persone che passano nelle porte e si chiudono e si aprono e appare qui e appare lì c'è veramente poca roba interessante questa prima parte c'è da dire che veramente se uno non si addormenta è veramente quasi un eroe perché non si vede proprio niente non succede nulla cioè loro sono sparite e poi non so vuole sembrare che diventa un film di scomparsi cosa fanno con loro con la polizia che vanno in giro cose che non ci stessano nulla cioè una parte è molto meno viene allungata con loro che fanno questi dialoghi imbarazzanti cioè io li vedi questi critici ma che cazzo fanno incoglioniti si incazzano in maniera allucinante senza un vero motivo cioè proprio come sono scritti gli dialoghi di questo film sono imbarazzanti sui certi punti di vista non si capisce cosa dicono cosa si dicono tra di loro questi qui cioè invece di farsi forza niente no loro dalle botte per terra a caso cioè tutto a caso capito cioè c'è una tensione che si alza tra di loro senza un motivo non si capisce per quale motivo quindi poi finalmente finalmente ritrovano questi bambini all'inizio sono un po' scosse normale tre minuti dopo che non lo ritrovate già nel senso la cosa che fa ridere questo film è che è tutto così sembra quasi è tutto scontato quello che succede ma anche proprio nella gestione di una quella adesso posso dobbiamo chiamare come cosa si è vero fanno delle cose strane ma all'inizio non ancora e poi sono un po' scosse non si capisce gli fanno delle analisi tentano di emulare un po' il film originale che ovviamente in questo senso aveva una forza totalmente diversa la concezione del bene del male che aveva il primo film non ha nessun proprio un altro livello anche proprio l'idea di andare a fare le verifiche le cose per capire come mai la bambina fa queste cose e qui niente mi fanno due analisi mi fanno vedere dentro mi fanno vedere come stai a fare un imbordone a posto vai prego puoi andare a casa così nel senso è tutto gestito in maniera abbastanza approssimativa perché l'importante è poi andare ad arrivare alle bambine con gli occhi da Sith da Anakin Skywalker incazzato o da l'imperatore Palpatine con gli occhi gialli così che fanno le solite cose insomma è giusto soltanto quello è l'importante andare a far vedere che la bambina è tutta tagliata per emulare una cosa già vista 40 anni fa nel senso questo film purtroppo proprio per essere esorcista è vecchio di 100 anni è proprio vecchio come il demone del film è veramente un film così un film che non ha nessuna forza il film che tu lo vedi e dopo 5 minuti di vedere dici l'unica cosa che ti ricordi sono le facce di questi ragazzini e comunque effettivamente almeno personalmente mi danno molto fastidio queste facce così tutte truccate con questi occhi con questa faccia insomma che sta sono brutte veramente bruttine però all'inizio si tratta delle solite cosettine che il padre la riporta a casa accende la luce all'inizio si spengono le luci si sta là in piedi andiamo a letto la porta a letto si spengono le luci se il ristorante una volta lì cosa hai detto c'è fatto delle cose allucinanti questa qui veramente la dico si va bene senti papà va un attimo a fare una convention al lavoro bene è un po' rondato 150 anni e te ne vai perché una che te fa così è proprio strano poi lui veramente gli attori io non riesco proprio a capire questi poveri gli attori che hanno preso ma chi attori sono ma chi attori sono forse le uniche braviglie sono le bambinette che fanno un paio di trucco ma lui c'è sempre questa faccia questa è la faccia dell'attore per la moneta tutto il film è felice è triste è incazzato sempre così non si capisce perché gli altri attori hanno una forza zero proprio totalmente inutili e poi a un certo punto quando poi andranno a fare effettivamente l'esorcismo sono proprio ridicolo a livello visivo quello che succede questi personaggi sono tutti non è una forza l'unica effettivamente brava a parte diciamo la madre di Reagan che in questo film torna è brava visivamente eccetera anche l'attrice quella che faceva Hereditary non è male secondo me è una delle quelle che se la cava di più a cucca la faccia giusta nonostante c'è nel senso cazzo quella faceva l'infermiera no? io ho capito che devo essere questo è il motivo per cui mi dicono ma che pazzata è ma che strontale sono queste io vi direvo per questa cosa è questo che devo fare nella mia vita ma che sta di l'infermiera vaffanculo non si capisce perché i personaggi fanno queste cose perché si comportano in questo modo è proprio su questo ho scritto malissimo la combriccola di attori che si viene a formare per l'esorcismo finale è una cosa proprio bruttissima secondo me gli attori uno peggio dall'altro proprio nella non sono credibili in tutte queste cose e poi ragazzi la cosa più figa che dovrebbe essere l'evoluzione di questi ragazzini del male delle cose eccetera no niente qui semplicemente sono loro che vengono dopo due secondi non ci daranno neanche tempo di avere un po' paura perché alla fine qualche momentino ci prova pure il regista a fare un po' di paura con le solite scene eccetera quando quella gli appare del buio che accende la luce e stare lì vicino non è malvagia come scena il problema è che questa qua dura due secondi perché questi qui dopo poco capiscono che lui capisce che questa film va bene e la porta subito a rincredere la caos quindi quella rimane tutto a tempo rinchiusa per l'altri la vedono che è un mostro che mi chiede frega niente che distrugge tutta casa però non si vede perché ovviamente la protagonista è quell'altra è quella di colore tutti contenti bianchi neri tutte le nazionalità tutte le regioni questa cosa fa proprio tanto per buttare dentro gente per fare tutti contenti così anche io mi sento parte di questo film lasciando questo discorso dopo vengono messe su queste sedie infilzate sul terreno e non si muovono più non succede più niente cioè il discorso è che queste rimangono sempre lì sedute e loro stanno intorno una volta ci provavano corpizionesimo una volta ci provano con quell'altro cioè protestanti e quello quindi così il film è questo non gira intorno a questa stanza assurda con questo gruppo di incoglioniti che provano a esorcizzare queste due cioè è proprio una storia inutile un film inutile un film che non ha senso di esistere e in più ancora minchimino deve essere il seguito del capolavoro assoluto del 73 questo film non ha nessun senso non ha veramente nessun senso anche i personaggi che tornano dal film originale buttati totalmente a cazzo di cane in questo film non servono a nulla e non fanno nulla è veramente proprio uno dei più beceri fanservice maionisti questo veramente assurdo assurdo non vi voglio spoilerare ma a un certo punto come sappiamo anche nel trailer appare la madre di reagan del primo film appare tre secondi succede una cosa e vanno a ospedale finito a sua parte non esiste più sta lì e diventa tipo eh no perché dice cose sai tu sei tu sei tu finito la sua persona c'è naturalmente inutile non serve a nulla se non a dire oh questa è l'attrice del primo esorcista basta quindi proprio poi le solite cose no di quelli che vanno da quella che ho già l'ha passato che ti dice pittiri pittiri come hai fatto e qua vieni con noi aiutaci cioè cose veramente questo film non ha nessuna forza da nessuna parte per fare un film del genere dovevi andare a prendere un altro tipo di di male fare qualcosa di un po' diverso qualcosa che non era mai stato visto cioè nel senso ci potete provare invece niente qui l'hanno fatto in questo modo scopiazzando film che hanno scopiazzato l'esorcista per anni cioè quindi è proprio questa la cosa brutta di questo film questo film è una scopiazzatura della scopiazzatura la musica è usata a tre secondi ogni tanto ma è usata malissima cazzo di cane così ogni tanto se la ricordano che c'era la musica i personaggi sono inutili gli attori sono bambolati la regia è così tanto per un po' televisiva un po' tutta patinata un po' c'è prova ogni tanto e basta la storia è totalmente un film non è così un film che tu lo dimentichi dopo tre secondi e basta così non so cosa altro dire non so cosa altro aggiungere se non andiamo un attimo nella parte spoiler perché vi vado a parlare di qualche scenetta questa è la mia recensione dell'esorcista il credente spero il video vi sia piaciuto almeno il film ha fatto cagare non so se a voi è piaciuto nel caso fatemelo sapere qui sotto nei commenti così ci confrontiamo un attimo ripeto per me per gli amici di horror questa roba è veramente monnezza monnezza io non riesco proprio a capire come si possa pretendere di fare dei film del genere non so se potranno farne anche altri io spero che dopo questa merda smettano perché veramente non si possono vedere questi film ridi e ritriti altre 700.000 volte cose, scene, situazioni viste e riviste io non capisco come cazzo si fa a fare un film e a scrivere una storia del genere avendo come inizio un film come l'esorcista è una cosa che non ha proprio se tu ti mettevi lì questi ci mettono sei anni a fare i film dei film del cazzo del genere ma vi rendete conto? cioè voi volete qualcuno vuole giustificare questi film di questa gente che scrive questa roba in diversi anni diversi anni per scrivere una storia del cazzo così ma come si fa a scrivere una storia loro vanno lì nel bosco e diventano due esorciste due due esorciste due bambine possedute e basta film che abbiamo visto altre mille volte non c'è non c'è un qualcosa che magari va più a mirare sull'interiorità sul male che può essere visto su una cosa che può prendere tutti che può riunire che può fare non è niente non serve un cazzo perché anche il finale è un finale da stronzo da film del cazzo che mi interessa solo al personaggio principale per dire un finale che non ha senso tu vedi sul finale e dici guarda che merda del finale ma veramente è così stronzo sto finale sto film del merda comunque grazie a tutti ci vediamo alla prossima chi non ha visto il film salutateci perché altrimenti vi spoilerate tutto chi invece l'ha visto andiamo con gli spoiler spoiler allora ma il vaticano il porto al vaticano o neanche i vaticani dicono i re dei previ scusi allora ci sono questi due bambini guardi che foto con gli occhi gialli con i denti con il grafico scritto help esattamente come era successo nel 73 nel film originale il prete poi ha dovuto morire quindi insomma una cosa abbastanza importante è successa no non possiamo purtroppo in questo caso non è possibile non possiamo intervenire ma come potete intervenire ma come non potete intervenire queste sono le ragazzine che sono possedute non le vedi non le vedi che sono malate hanno qualcosa dentro di far fare queste cose dicono cose che non hanno senso dicono cose che non dovrebbero sapere quella gli dice eh 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 ma sauro via è una sore eccetera quella cioè non capisci che sono cose che non potevano sapere queste bambine lo vede che si sono fatte non hanno le unghie perché si sono grattate per scrivere aiutateci esattamente come quella lì perché non dovrebbero essere possedute ma non è un tentativo no loro dicono sempre no eh no non possiamo purtroppo che comunque al fine dovrebbero essere queste sono cose più che altro di psichiatria ma vattene affanculo a te e tutti i preti la tralasciando questi discorsi così nel senso che è una scena per fortuna che dura poco per me è una cosa ridicola ogni volta che non ci credono mai il film purtroppo è pregno di scene che non ti ricordi quindi non ho scene da lui parlare in realtà una storia inutile veramente a un certo punto fanno vedere pure un demone vogliono far vedere mezzo demone così per emulare un po' il volto che si vedrà bianco pedaverico dell'esorcista 1 ma classico mostro con tutto 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 così un po' glabrosa che gli eschi non è che budellosa che si vedete le secondi non si capisce niente tra l'altro il ridicolo che il demone gli dice potete salvare se volete salvare una sola potete salvare come ha fatto la scelta lui all'inizio e lui all'inizio sceglie di salvare perché gli dice sua moglie sta morendo o una o l'altra o sua figlia dentro il grembo la possiamo salvare morirà sua moglie altrimenti muore sua figlia e rimane la sua moglie fino a scoprire che lui aveva scelto la moglie e peraltro può essere anche una scelta comprensibile che comunque tua moglie l'hai vissuto tua figlia è ancora diciamo all'interno tra le due ci poteva stare invece alla fine more la moglie e rimane sola la mia quindi ti fa vedere che lui non è buono perché ha scelto la vita la nuova vita nonostante avrebbe sofferto perché comunque la moglie era una persona che aveva vissuto ma lui semplicemente aveva scelto la moglie e la figlia a cazzo di cane si è salvata perché così lui in realtà non voleva quindi fa vedere lui sei stato cattivo tua figlia che dice il demone vabbè lasciando poi le scene proprio quelle che dovrebbero essere il culmine estetico di questo film nella parte finale dell'esorcismo che sono ridicole come sono girate tutte hanno davanti una patina strana con questi blu questi flash queste cose e io dicevo ma questa come cazzo l'ha girata questa scena ma non è che ti devi vedere l'esorcista per girare una scena bene così ma pure che vedi The Conjuring quelle scene sono clamorose inesagerate nel James Bond ma potevano ancora da quelle qui tutto appaiono volti a caso e neanche si capisce che so così è un totalmente montaggio sconsiderato totalmente inutile e qui in parte ti fa vedere c'è lui che deve prendere il tavolo che fa la camera fissa tu posta una cosa tu taglio 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 che lui fa i tagli e spagiscono le cose non si capisce fanno dei montaggi delle scene che sono inutili anche la nostra Ellen Burstyn se non sbaglio che torna dall'esorcista 1 che cazzo serve? a niente non serve a nulla il suo personaggio è inutile arriva va in giro per casa con quella demoniaca che ha buttato giù tutta la stotta la stotta casa ha ribartato e va in giro da sola ma dove fai che sei una vecchia di grepida qualcuno aiuti no la lascia andare da sola quell'altra la ragazzina fa un macello assurdo nessuno si accorge di niente non si sa cosa stanno facendo gli altri vanno lì a parlare con quello col padre due ore niente quella è andata su su a parla con la ragazzina demonina che gli fa si muove si contorce alla fine abbiamo un crocifisso papà dai cica la fa diventa cieca definisce il suo il suo personaggio poi sta in ospedale sta lì è la sua cieca lo mette delle facce si chiama la tata l'uganiglia finito capite che non ha proprio senso ha litigato con la figlia perché lei ha scritto un libro sull'esorcismi tanto per non farla riapparire poi alla fine invece riappare a caso dopo 30 anni che si sono viste lei torna a casa e la perdona ma perché per quale motivo a cosa serve questa scena a cosa cazzo ci frega a noi di questa cosa niente ha solo due pari a paire dei personaggi così sempre dicono oh che figo è lei la stessa attrice io veramente non ho parole non ho parole questo film è scritto male è girato probabilmente peggio in molti scene ha una storia totalmente inutile il trailer neanche sembrava così malvagio secondo me però purtroppo ormai nel trailer ci mettono tutte le scene più interessanti nonostante in questo film non ce ne siano cioè questo film veramente vive due personaggi protagonisti bambini demoniache che stanno lì con questi occhietti e fanno non c'è altro non succede altro in questo film non c'è veramente neanche è talmente tutto veloce quello che succede che si vuole solamente arrivare al momento in cui queste regazioni stanno lì ben visibile la nostra bellissima telecamera con tutti questi grafici con le voci del cazzo che fanno così perché poi loro stanno lì seduti tutto il tempo e questi intorno gli avranno a tirare l'acqua santa l'acqua di qua l'acqua di due l'acqua di giù poi il prete allora il prete no io non posso fare niente rispettate ragazzi non posso fare niente ho una faccia il prete che sai benissimo che morirà dopo tre secondi questo film è pure scontato arriva no ragazzi purtroppo il comitato dei prete non mi permette di fare niente cavatela da solo e quindi si viene a scoprire che inoltre nonostante il primo film ci avesse fatto comprendere che era una pratica particolare che andava fatta solamente da persone che sapevano quello che stavano facendo qui ci viene totalmente distrutto questa considerazione perché chiunque può in realtà fare un esorcismo l'importante è che ci sia l'amore e che tutti ci fermiamo le mani e cerchiamo di far diventare buone queste bambine demonine che iniziano e diventano grandi strani questo è il discorso ovviamente poi il prete a un certo punto dice no vabbè dai vengo vengo soprattutto spinto dal padre del grandissimo attore sta combattendo dentro la lotta vieni dentro se vuoi fare la tua parte salve sono il prete tu dici asso diamone una faccia oh minchia è arrivato il prete adesso ormai è finita tocca la sedura di cazzine eh perché nel padre il figlio dello spirito di qua e muore subito quelli sono due ore che stanno lì non toccate non toccate non toccate perché se toccate poi è arrivare il prete no perché mi preoccupate padre e muore inutile questo prete totalmente inutile totalmente inutile questo film inutile parlarne ulteriormente secondo me le uniche scene che fanno un pochettino più paura sono quelle in cui le bambine poi tornano e stanno a casa tutte malate fanno cose totalmente assurde lì un pochettino ti fa prendere paura che c'è qualche scena simpatica ma per il resto poi il film le ragazzine vengono una non viene considerata calcolata a livello di scena diciamo non viene più considerata perché si vedono fuori campo le cose che succedono a parte qualche scenetta la nostra protagonista viene mandata subito in uno stesuto la tengo dentro una teca e lei che fa davanti al vetro e basta i colpi di scena so lui che sta tesoro tesoro ti arriva una mano scusa ma che è ma sta lì ma che non lo vedi che sta lì sei dentro casa non è che dici cazzo sta in giro cammini e uno fa oh no stai a casa c'è il silenzio lui tesoro sei tu la mano scusa ma che per caso ma che è sta cazzata questi jumpscare qui mi stanno sul cazzo in una maniera allucinante fanno ridere i polli perché si ti fanno prendere il colpo ma perché è talmente una cazzata però che Cristo che dici porca miseria ma come li fanno cioè i jumpscare non possono essere così a caso devono essere contestualizzati un po' no se no fanno il film tutto il tempo la gente che fa eeeh così a pari a caso con tanto arcina con uno schermo gigante con la musica sparata grazie a cazzo mi fanno saltare ma che paura è una paura che rimane lì così il film ti fai a pazzi poi ti metti guardate perché dici porco guarda che merda il film è inutile a un finale del cazzo che muore solo una ragazzina perché il demone ha detto se scegliete chi vuole salvare e invece poi scegliete chi vuole salvare e poi ti fa vedere che quello lì stronzo alla fine è rimasto stronzo ma neanche troppo perché poi alla fine la cosa lì che poteva essere anche questo il fatto di due famiglie diverse quelli mezzi razzisti quello di colore poteva esserci una cosa interessante anche su questo metterla sulla questione del diverso del non aiutare l'altro perché è diverso qualcosa di interessante che ci poteva stare invece dopo tre secondi ti fanno vedere un po' che loro sono antipatici però non manco troppo alla fine dopo un po' tutti sì dai cerchiamo di salvarla sì è vero mi convinco anch'io ma vaffanculo e poi alla fine no 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 scelgo mia figlia ma come cazzo di merda inutile fai della cagate sotto fai pure sta cosa il demone oh sì scegli bravo alla fine poi ti fa vedere che lui gli aveva fatto quella là la benedizione quando stavano a Iti e quindi il demone ha fatto al contrario ha fatto lo scherzetto oppure la bambina è benedetta la bambina non poteva farlo perché il demone non poteva ucciderla perché era benedetta eccetera comunque alla fine dopo sto scherzetto non si sa che cosa niente uccidono uccidono l'altra bambina e il nostro protagonista è felice ma che cazzo è sta cosa ma farle morire tutte e due sarebbe stato anche il finale un po' più forte no muore quella che non ce ne frega un cazzo e la nostra protagonista carina di colore sopravvi che felicità questo film è così felice così loro possono riunirsi e fare e pensare alla loro mamma mentre è morta nel mondo degli spiriti ma andate a cagare poi David Gordon Green spero veramente che il fantasma di Friedman ti perseguiti per tutta la vita noi ci vediamo al prossimo video vi mando un bacione incredibile e basta fare questi sequel che annudano altri film che sono cento volte più belli di questo basta fare questi film pretenziosi utilizzando titoli di grandi film perché fate come i grandi registi attuali fate film moderni fate film che abbiano qualcosa di cui è importante cioè vale la pena raccontare fate i film con delle scelature interessanti con dei tecnicismi molto interessanti come fanno Ari Aster Robert Eggers e altri grandi registi contemporanei e non ci rompete il cazzo con queste saghe che non vanno più recuperate perché sono ormai roba trita di trita e di trita se volete fare roba interessante mettete in mano i registi forti e allora gli fate girare film interessanti che magari possono provare un minimo a fare qualcosa non ti dico arrivare a quei livelli dei primi film ma almeno a raccontare qualcosa di interessante non le solite cose i soliti esorcismi i soliti di Michael Myers che uccide tutti cioè basta avete rotto il cazzo questi film ciao 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 Grazie.